Preghiera dei Vespri, mercoledì, sesta settimana di Pasqua. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche veste, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore sulla mensa e pane vivo. Il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile torna gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua. Il suo corpo adorabile è il vero pane azimo. Irradia sulla Tua Chiesa la gioia pasquale, oh Signore. Unisci alla Tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Non si turbi il vostro cuore, ma abbiate fede in me. Alleluia. Solo in Dio riposa l'anima mia, in Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla. Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciano della menzogna, con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza, Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini, insieme sulla bilancia sono meno di un soffio. Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio, tua Signore è la grazia. Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non si turbi il vostro cuore, ma abbiate fede in me. Alleluia. Ti lodino i popoli, o Dio, esultino per la tua salvezza. Alleluia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti, la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti lodino i popoli, o Dio, esultino per la tua salvezza. Alleluia. La tua maestà copre i cieli. La terra è piena della tua gloria. Alleluia. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei Santi nella luce. Ci ha liberati dal potere delle tenebre. Ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio di letto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura e prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il Capo del Corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto, il primogenito di coloro che ressuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, tra pacificare con il sangue della Sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La Tua Maestà copre i cieli, la terra è piena della Tua gloria. Alleluia. Se si predica che Cristo è ressuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai morti, neanche Cristo è ressuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora evana la nostra predicazione ed evana anche la vostra fede. Ora, invece, Cristo è ressuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia. Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia. È risorto e regna per sempre. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Non cercate il vivente tra i morti. Alleluia, alleluia. Lo Spirito mi darà gloria, riprenderà le mie parole e le dirà alla Chiesa, alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e suo servo ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso i nostri padri ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e ora è sempre e i secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito mi darà gloria, riprenderà le mie parole e le dirà alla Chiesa. Alleluia. Supplichiamo, Dio Padre, che in Cristo suo Figlio ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Per la vittoria di Cristo salva il tuo popolo, Signore. Dio dei nostri padri, che hai glorificato il Figlio tuo, donaci la grazia di una vera conversione. Fa che tutta la nostra vita proclami la Pasqua di Cristo. Tu, che ci hai riuniti chiamandoci al pastore e custode delle nostre anime, conservaci nella fede per mezzo dei pastori della Santa Chiesa. Hai scelto i primi discepoli del Figlio tuo nell'antico popolo eletto. Aiuta i figli di Israele a riconoscere il Cristo, in Cristo il compimento delle tue promesse. Ricordati degli emarginati, degli orfani, delle vedove. Non abbandonare nessuno di quelli che Cristo ha redento con il suo sangue. Hai chiamato il protomartire Stefano a condividere la gloria del tuo Figlio. Accogli nel tuo regno tutti i defunti che hanno lottato e sofferto a causa della fede. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Esaudisci i nostri desideri, conduca alla vita eterna. Amen.